Mattinata da dimenticare per gli abitanti della zona di via Barletta, interessata da uno sversamento di liquami senza precedenti a causa della rottura di ben sette punti di passaggio della Fogna Nera. Altrettanti i tombini sono saltati e da queste è zampillata acqua nera che si è riversata sulla strada allagando l'ingresso di una stazione di servizio e anche quello dell'Amiu. Altri due chiusini sono saltati nelle adiacenze di un'altra area di rifornimento di carburante, quella nei pressi di piazza Indipendenza. Proprio qui è giunto un autobotte di acquedotto pugliese per avviare il non semplice intervento di riparazione del guasto che ha provocato soprattutto la diffusione di odori nauseabondi in tutta la zona, gli stessi che si respiravano nei pressi dell'ingresso del depuratore comunale, fortemente indiziato di essere il responsabile di questo guasto lungo la rete fognante. L'impianto, come è noto, è tuttora sottoposto a sequestro penale da parte della magistratura, quantunque con la facoltà d'uso per non interrompere un pubblico servizio. Sul posto è intervenuta la polizia locale, cui agenti hanno anche controllato sia il traffico, costretto rallentamenti, sia il lavoro delle maestranze di acquedotto pugliese. L'intervento è stato repentino grazie alla richiesta del comandante della polizia locale Antonio Modugno, del vice sindaco e assessore a polizia municipale Giuseppe Di Marzio e dell'assessore all'ambiente Giuseppe De Simone. Proprio quest'ultimo ha anticipato che dell'evento sarà interessata la procura della Repubblica, in quanto a Palazzo di Città si presume vi sia effettivamente una correlazione con il sequestro del depuratore.